buonasera e ben trovati all'appuntamento con il telegiornale delle 19 di speciale news in apertura stasera gli esteri le forze militari americane ed è anche le altre nazioni che collaborano per la notte cianista contro l'isis hanno cominciato azioni militari contro i terroristi in siria e tra l'altro i raid sono cominciati per prevenire un imminente attacco americano il servizio le forze militari americane e delle nazioni partner stanno conducendo azioni contro di terroristi dell'isis in siria lo ha reso noto il portavoce del pentagono fonti della difesa americana hanno affermato che da lunedì le nazioni partner che partecipano all'azione sono arabia saudita emirati arabi giordania e bahrain sono stati avviati per prevenire un imminente attacco contro gli stati uniti e gli interessi occidentali pianificato da veterani di al qaeda altresì riconosciuti come il gruppo corasan lo riferisce il comando centrale americano centcom che è stato citato dalla bbc parliamo adesso di cronaca italiana ribaltare la sentenza di primo grado e condannare tutti gli imputati del processo per la morte di stefano cucchi arrestato per droga e deceduto una settimana dopo in ospedale lo ha chiesto il procuratore generale mario remos nel processo d'appello nello stesso il procuratore ha anche detto che l'uomo era stato picchiato da un'altra parte e non al palazzo di giustizia come era stato detto in un primo momento in primo grado gli agenti e gli infermieri erano stati assolti dalla terza corte d'assise erano stati condannati solo i medici appena comprese tra i due anni ed un anno e quattro mesi torniamo a parlare della vicenda tragica dell'azienda di adria di rovigo dove sono morti quattro operari i titolari è un altro operaio sono stati iscritti nel registro degli indagati il servizio i titolari dell'azienda di adria vicino rovigo dove lunedì hanno perso la vita quattro operai sono stati inseriti nel registro degli indagati della procura rovigiana con l'accusa di omicidio colposo c'è anche un operaio coinvolto colui che ha salvato la vita ad uno dei colleghi poiché è ritenuto dagli inquirenti il titolare della vasca da dove è fuoriuscita l'esalazione mortale torniamo alla pagina degli esteri un dissidente uiguro è stato condannato in cina con l'accusa di secessione lo hanno fatto sapere familiari ed amici dell'uomo che insegnava minoranze linguistiche all'università di pechino il docente era già stato arrestato al gennaio l'unione europea ha espresso il sostegno per una condanna in giustificata i militari del nucleo speciale di polizia valutaria della ruota di finanza di roma hanno sequestrato l'abitazione dell'ex segretario generale dell'ugl Giovanni Centrella l'uomo è accusato di approvazione indebita dei fondi del sindacato e adesso apriamo un'ampia pagina sportiva cominciamo con il calcio con la Serie B questa sera la quinta giornata di campionato gli si è disputato l'anticipo Spezia Carpi finito con la vittoria carapese per 2 a 1 ecco il programma di stasera sentiamo è cominciato un martedì con l'anticipo Spezia Carpi la quinta giornata del campionato di Serie B il successo va agli ospiti per 2 a 1 con le firme di Bianco e Concas ed il gol locale a fine gara di Catellani oggi le altre sfide con il Perugia in trasferta a Modena per Trapani e Bari contro Entella in casa ai siciliani e Vicenza in trasferta per i pugliesi ecco il quadro completo con avvio dalle 20.30 Cittadella Provercelli, Crotone Catania Frosinone Avellino, Livorno Varese Modena Perugia, Pescara Latina Ternana Bologna, Trapani Entella e Vicenza Bari ancora calcio ma questa volta la Serie A perché questa sera alle 20.45 c'è l'anticipo della quarta giornata del campionato tra Empoli e Milan i rossoneri in cerca di riscatto dopo il K.O. contro la Juventus mentre i padroni di casa dopo il 2-2 a Ciupato con il Cesena cercano la prima vittoria stagionale tra i rossoneri potrebbe sordire dal primo minuto Fernando Torres per gli embolesi in maccarone non ce l'avrà recuperano Laurini e Tonelli bene è tutto per quanto concerne questa edizione del telegiornale i prossimi appuntamenti con la nostra informazione la notte alle 22 e poi nuovo giorno domani mattina alle 8 nuovo buon seguimento di serata ci vediamo domani sera ciao 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 ciao